Previsioni per mercoledì 26 luglio. Cielo da poco è regolarmente nuvoloso per sviluppo di cumuli nelle ore più calde della giornata. Rovesci sparsi più probabili sul settore centro-meridionale, fenomeni in esaurimento nel pomeriggio. Temperature minime in diminuzione e massime stazionarie. Venti di brezza leggera o tesa, mare poco mosso. Grazie a tutti.